Siamo al Salone Internazionale dell'Editorie del Libro di Casablanca, al padiglione del Sesee e Me, il consiglio della comunità marocchina all'estero. Stiamo per assistere alla conferenza su donne e religione. Tra le partecipanti, Hakim Alebar, psicanalista marocchina che ha curato il volume Femme e Religions, una raccolta al femminile sulla condizione delle donne in Marocco. Ha moderato l'incontro Fadwa Misk, giornalista marocchina che esprime il suo punto di vista sulla necessità di parlare di una religione al femminile. Abbiamo voluto un po' trattare la questione femminile da un punto di vista religioso per la semplice razione che in tutte le religioni, non solo l'Islam, il fatto religioso è stato relatato e trattato da un uomo. E, per esempio, la religione è venuta su una tradizione, su una cultura che è già patriarcale. La parità di genere non è solo una questione culturale, ma anche sociale, al fine di assicurare lo sviluppo del paese. Questo secondo la presidente di ESPOD, associazione marocchina per la promozione dell'imprenditoria femminile, Sabah Shraibi, che chiede più coraggio alle donne del suo paese nel contrastare la cultura patriarcale insita nella società. Grazie.